Il One World Trade Center, ovvero la Freedom Tower, diviene ufficialmente il grattacielo più alto degli Stati Uniti d'America. A decretarlo è il Council of Tall Buildings in Urban Habitat, un'organizzazione no profit internazionale che si occupa proprio di queste classifiche. 541 metri, compresa l'antenna. Questo sarà il nuovo record americano. Dico sarà perché l'enorme palazzo non è stato ancora inaugurato. Il record è comunque suo. E Duma ride. Sì, ride. Per la cronaca, Duna ha 79 anni e vive nel villaggio di Tame, in Nepal. La vecchina non ha una laurea e neppure un lavoro. Nel senso di uscire da casa tutti i giorni inseguendo auto che sfricciano l'indifferenza. Sadici treni che scappano e folle di pendolare i professionisti della calca. No. No. Con impario la florillezza di un'indispensabile busta. No. Per uno scatto in avanti nelle gerarchie, un ulteriore abbocco nella busta di cui sopra. No. Niente di tutto questo. Ma Duma ride. Già, è proprio questo quello che fa. E la sua non è la solita storia da esotica saggia orientale che ci guarda dall'assù. Qualcosa di vero c'è in questa affermazione. Ma non è affatto la prima parte. D'altra parte, non arrivi a 79 anni con ancora la forza di sorridere senza aver visto il peggio che la vita possa offrire. Quella luce negli occhi costa. Costa assai. Ecco perché l'indie. Non di meno, Duma non ha la tv ad plasma, neanche quella via a cavo. Non ha proprio cavi, ecco. Non ha una smartphone. Dismarta il suo cervello e ne basta e avanza. Questo non vuol dire che sia un genio. Perché non ci vuole un genio per arrivare lassù. Ha 79 anni, intendo. Devi volerlo davvero. Poche ghiacchiere e occhi sulla cima. Duma sente la radio, questo sì. E quel giorno, la voce che balla nella scatola racconta di un primato. La torre della libertà è la più alta d'America. 541 metri, usanna la voce. Duma prima sorride, ci pensa su e ride. Perché anche se sa che la radio non ne parlerà, Duma è una vita che cammina, dorme e sogna dalla casa più in alto del villaggio di Tame, sui monti dell'Himalaya, a 3800 metri. Questa è la mia torre, pensa. La torre della felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.